Signor Gianluigi Buffon, capo delegazione e direttore sportivo della nazionale italiana gioco calcio, ambasciatore AIRC dal 2022. Motivazione. A Gianluigi Buffon per aver saputo coinvolgere a titolo personale come capo delegazione della nazionale e della federazione italiana gioco calcio le giovani generazioni nelle iniziative di divulgazione di fondazione AIRC, contribuendo con autentica partecipazione e sensibilità attraverso lo sport a diffondere i valori di AIRC in coerenza con i messaggi di prevenzione sui corretti stili di vita.